Dalle sette e mezzo per fare la domandina, è la prima volta che vengo, è da stamattina dalle sette e mezzo e ancora? Dalle sette e mezzo del mattino che siamo qui a fare la fila con due operatori, quando potevano essere di più, per brigare anche le persone, perché ora non sappiamo se arriviamo a luna, poi ritorniamo e non si sa nemmeno col pomeriggio e tornare all'indomani. Tre volte che mi hanno rimandato, non lo so perché avevo preso il numero ieri, sono già venuta venuta, c'erano tante persone e mi hanno rimandato a casa, sono venuta dopo Pasqua, Martedì e mi hanno rimandato di nuovo a casa e oggi di nuovo la stessa cosa, spero di no. Tanti messine si infila per presentare la domanda per accedere alla Messina Family Card, che concede aiuti economici in questo periodo di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica a causa del coronavirus. Migliaia le istanze presentate, molte anche quelle rigettate. I termini per la presentazione delle richieste scadranno sabato e nei giorni scorsi le domande sono schizzate in alto con lunghe code agli sportelli. Ad oggi noi abbiamo in media 50-60 entrate per circoscrizione, sono 6, più quella di Palazzo Satellite che è stata, diciamo, è da supporto proprio alla terza circoscrizione perché i numeri chiaramente degli abitanti sono maggiori rispetto agli altri. Sono 50-60 quelli che proprio fisicamente si presentano. Oltretutto, tendo a precisare che tutto il gruppo prevede anche 17 numeri di telefono che sono stati messi a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali e del Dipartimento Politiche Sociali. Rispondono i colleghi assistenti sociali ed educatori e quindi per dare tutte le informazioni relativamente al finanziamento. In questa circoscrizione sono 50 al giorno, però non è l'unica postazione perché sono attive tre postazioni. E c'è un problema anche di residenza perché la piattaforma riconosce dopo in automatico, fa un controllo immediato e quindi fa il confronto con i dati anagrafici. E in quel momento blocca, per cui ci sono ecco tante di queste situazioni che portano lo straniero soprattutto a venire a chiedere informazioni e a chiedere a noi di fare l'annullamento. E dopo ci sono molti anziani, quindi gli anziani non ce li hanno. Dopo è una zona, diciamo, dal punto di vista economico disagiata, per cui anche la possibilità di avere personal computer, purtroppo, piuttosto che smartphone è molto relativa. I controlli su chi ha diritto all'incentivo, ha fatto sapere l'amministrazione comunale, saranno più stringenti. E così sono arrivate anche tante richieste di rettifica e annullamento di domande, evidentemente compilate con qualche errore. Sono arrivate anche le prime sospensioni per i furbetti, che hanno tentato di ottenere il buono spesa, erogato dal comune di Messina per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza. Le richieste sono molto elevate, ma soprattutto ci sono diverse informazioni da dare al fine di evitare problemi. Quindi l'impegno da parte di tutti c'è stato, ma soprattutto c'è stata una grande richiesta da parte della popolazione. Non soltanto di quelle famiglie che avevano fino ad ora avuto la necessità, ma soprattutto di nuove famiglie, di nuove fette di popolazione che a causa di questa chiusura di numerose attività ha avuto la necessità di dover fare la family card. Quindi c'è stato un utilizzo molto alto della sede circoscrizionale. Invito sempre a provare a fare la richiesta tramite l'app e anche fare la richiesta di annullamento della domanda tramite mail familycard.comune.messina.it al fine di evitare di intasare gli uffici come è stato fatto anche oggi. Questo è uno strumento che dà una prima risposta all'emergenza. Immaginiamo però che bisogna anche pensare al dopo coronavirus, che non significa fra dieci anni. Significa che ultimata questa fase di emergenza vera e propria ci sarà un'altra emergenza che è quella economica. Quindi dare sostegno alle famiglie in difficoltà, dare sostegno alle attività commerciali che adesso sono chiuse. La politica che tipo di risposta può dare? Non basta evidentemente dare soltanto il sussidio. Sicuramente c'è bisogno di una ampia visione di sviluppo perché noi in questo momento nella misura in cui verranno riaperte piano piano le attività e dentro maggio, dentro i primi di giugno questo avverrà, ci sarà una mancanza di liquidità nelle tasche dei cittadini messinesi e anche dei commercianti per poter recuperare le loro scorte di magazzino. Ci sono dei provvedimenti che sono arrivati dal Governo nazionale e li stiamo aspettando, li stiamo valutando. Io sono anche un commerciante quindi anch'io aderirò alla richiesta di prestito ma soprattutto anche a livello locale so che l'amministrazione comunale ancora non conosco quelli che sono i provvedimenti ma stia cercando anche per questa seconda fase di dare una mano. Sono stati tantissimi gli investimenti fatti e le somme messe a disposizione dai bilanci comunali che per fortuna erano approvati e quindi c'è stata la possibilità di poter attingere direttamente. Grazie. 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 Grazie.